Una flotta di nove imbarcazioni, una cinquantina di persone impiegate in tutto che giocano fra 40 fissi e una decina stagionali, forse un pochino di più i fissi e un po' meno gli stagionali. È stato un anno difficile, un inizio difficile, guardando in avanti cosa le viene da dire? Guardando in avanti posso dire che noi ad oggi abbiamo avuto un calo del 40%, di oltre il 40% dell'incasso rispetto al 2019 e è difficile guardare in avanti. Sì, soprattutto è difficile guardare quando non ci sono certezze, quando si vive una situazione che varia da giorno a giorno, per cui è anche difficile fare programmi per una stagione che noi avevamo programmato con tante buone idee, tanti buoni propositi e invece ci ritroviamo a non vederla ancora iniziare. Parliamo un attimo delle normative che forse sono il primo limite che vi è stato posto, come voglio dire quasi a tutti, ma sulla vostra flotta e sul vostro lavoro come incidono? Per ora hanno inciso solamente in natura prettamente economica, nel senso che noi abbiamo studiato e abbiamo costruito un protocollo di sicurezza molto importante, molto dettagliato, molto curato, che prevede l'adozione di alcuni provvedimenti, soprattutto in merito alla sanificazione, all'igienizzazione frequente e quindi ai dispositivi di protezione per il personale, e anche, ma soprattutto per quanto riguarda il distanziamento sociale che ovviamente incide in maniera molto importante su quelli che sono i numeri di persone trasportabili che in qualche modo poi andranno a condizionare in maniera molto pesante quello che è il numero delle persone trasportabili. Ecco, noi siamo su una barca che è in cantiere in questo momento e in cantiere da diversi mesi, costi molto elevati per quanto riguarda chiaramente i lavori, chiamiamoli, di routine, e anche per quello che riguarda gli adeguamenti. Una barca come quella dove siamo, quante persone portava? 250 persone, 252 persone. E attualmente quale potrebbe essere il numero di persone che potrebbe trasportare? Considerando il distanziamento sociale di un metro, siamo sull'ordine delle 100 persone. Ovviamente poi questo numero può variare in funzione del tipo di clientela, nel senso che dovremmo considerare i gruppi familiari, quindi i conviventi che possono viaggiare insieme, però partiamo dal limite più basso che è delle 100 persone. Ecco, lei mi diceva che suo padre ha iniziato questa attività più o meno nel 54. Noi vi ricordiamo sicuramente nel momento della mareggiata siete stati pronti, disponibili, e avete affrontato tutto quello che poteva essere il mettersi a disposizione degli amministratori, dei cittadini e quindi avete lavorato quasi tutto un inverno in emergenza. Cos'è che non vi torna nel riconoscimento delle istituzioni in questo momento? La cosa principale riguarda soprattutto i nostri dipendenti, cioè le persone che lavorano per noi, perché è inammissibile che a distanza di tre mesi e mezzo il nostro personale, che peraltro siamo stati costretti a mettere in cassa integrazione, abbiamo ancora percepito un euro. Tutte queste persone hanno famiglie, hanno figli, hanno mogli, hanno tutta una serie di situazioni piuttosto più o meno critiche, per le quali comunque bisogna intervenire immediatamente e che bisogna considerare e che ad oggi non sono state considerate. Questa è la cosa più grave. Noi ci siamo resi disponibili per svolgere il servizio di collegamento perché era doveroso da parte nostra intervenire in una situazione di emergenza, perché come dico io nella vita non puoi sempre prendere, cioè noi lavoriamo fondamentalmente grazie a Portofino e nel momento in cui bisogna prendere, abbiamo preso, nel momento in cui bisogna dare, noi ci siamo messi subito a disposizione perché era doveroso da parte nostra dare. L'abbiamo fatto volentieri, la cosa che ci conforta di più è quello che in qualche modo ci inorgolisce maggiormente è che a distanza di un anno e mezzo noi troviamo persone che ci incontrano e ci ringraziano ancora oggi per il servizio e per l'impegno che abbiamo messo durante tutto l'inverno. L'abbiamo fatto con entusiasmo, l'abbiamo fatto con compassione per cercare di far trascorrere un periodo critico a chi doveva raggiungere Portofino o per lavoro o per chi ci viveva in una situazione di relativa normalità. Diciamo che alla fine del periodo si era formata quasi una famiglia, cioè avevamo un rapporto talmente confidenziale con tutti quanti che è quello che ci portava ad andare avanti senza pensare alle ore che facevamo per il mare. Ecco, ora rimane davvero da programmare una stagione che sia dal punto di vista dei numeri sia dal punto di vista anche delle tratte perché poi ci sono situazioni tipo le Cinque Terre che non si sa se potranno accogliere o no e ancorché dal mare eventuali ospiti. Ecco, che idea si è fatta lei di questa partenza e del programma rispetto a quello che avevate e a quello che riuscirete ad attuare? Noi vorremmo tanto riuscire comunque a offrire un servizio completo, nel senso che avremo delle limitazioni su quello che sono le persone trasportabili, però comunque c'è anche l'impegno, la volontà da parte nostra di garantire quei servizi che in qualche modo sono fondamentali soprattutto per un comprensorio turistico come il nostro. Bisogna rivedere in corso d'opera quali saranno le novità, quali saranno le disponibilità anche da parte dei vari paesi, lei citava le Cinque Terre, per riuscire in qualche modo a portare anche i passeggeri a trascorrere queste giornate in posti splendidi perché poi fondamentalmente noi viviamo in comprensorio che, lo dico senza falsa modezza, però è uno dei più belli al mondo. E visto dal mare, direi che è ancora più bello. Il mare diciamo che dà quel valore aggiunto che in qualche modo è fondamentale poi per rendere ancora più vivibile, più appetibile e anche più interessante. Si parla tanto di riconversione. Per chiudere, lei ha mai fatto l'alba pensando come potersi eventualmente anche riconvertire o cambiare l'offerta o ampliarla piuttosto che modificarla? È difficile, è molto difficile. Noi abbiamo provato anche a svolgere servizi diversi, inventarci qualcosa di nuovo, però il tradizionale funziona sempre. La gente viene per trascorrere una giornata in barca, per vedere delle località esclusive, per vedere un tratto di costa che è tra i più belli della Liguria, perché è inutile negarcelo, però è la verità, per raggiungere via mare quelle località senza dover fare dei viaggi in treno, insomma con il caldo, con tutto quello che ne consegue e quindi poi arrivare a fine giornata stanchi, abbronzati, avendo visto cose bellissime, riconvertire tutto questo, cioè noi viviamo grazie a delle località, quindi alla fine il trasporto via mare in qualche modo consente intanto di raggiungere quelle località e poi comunque di passare una giornata in mare. Riconvertire il tutto vuol dire reinventarsi a fare qualcosa che magari il mercato non ti chiede e che non sai quanto potrebbe essere il periodo necessario a fare in modo che questa riconversione diventi in qualche modo appetibile. Ecco, più o meno la chiusura dell'intera operazione Traghetti nel Tiguglio finisce a dicembre per poi riprendere velocemente a gennaio. Finita l'ultima corsa a dicembre in una battuta, cosa vorrebbe dirsi e dire ai suoi collaboratori? Spero che non capiti mai più una situazione come quella che stiamo vivendo. Grazie. Grazie.